E questo, siamo esattamente in questo punto, questo è Guido Reni, che elabora l'opera di un suo allievo, La Legoria della Fortuna, e qui possiamo dire che siamo veramente al centro del mondo, la pittura bolognese non è inferiore a nessuna esattamente in questo momento. Poi ha fasi straordinarie, sono però legate prima alla parazione di Cimabue, poi a quella di Raffaello, che nel periodo del Cinquecento determina una rivoluzione in tutta la pittura emiliana e del nord Italia. Poi si arriva a un settecentro, che è rito gli stimoli, per cui il meraviglioso Crescli, ma il punto forte della pittura bolognese è questo che ho alle mie spalle, ed è una meravigliosa pittura ideale, che supera addirittura Raffaello con Guido Reni, e rappresenta un primato che è il senso stesso della pittura, la pittura deve migliorare la realtà. Caravaggio ha dimostrato invece che la realtà potrebbe essere fotografata. Sono le due strade, ma questa strada non è meno importante dell'altra, quindi è una mostra fondamentale non per sette secoli di pittura, ma per almeno un secolo in cui Bologna, è la capitale del mondo.